Siamo più sereni, bisogna vedere fuori da Cumiana come vedremmo trattati perché ovviamente abbiamo riscontrato delle difficoltà. Del tipo? Del tipo che se provenivi da Cumiana eri persona da evitare. Il paese lo viva tranquillamente anche perché siamo abbastanza sicuri di quello che si sta facendo. Mi sentivamo sollevati, non ci credevamo neanche tanto perché mi sembrava impossibile che un paesino come questo ci fosse un problema del genere. Non è che non sono preoccupato, è il coronavirus che mi preoccupa poco, non molto. Non penso che ci sia stata tanta preoccupazione, lo vedo anche dai supermercati, non c'è tutta questa grande ressa che c'è magari negli altri paesi. Quindi siete tutti immuni, dice? Sì, perché siamo sportivi, siamo i gioventini. Un po' pentiti ma però siamo così. In Cumiana abbiamo patito, soprattutto i commercianti, questa situazione di forse allarmismo quando poi in realtà non c'era nulla di cui preoccuparsi. Da una parte sono giuste, sono corrette, non è corretto tanto il panico che la gente ha creato. Quello è un po' esagerato, vero? Assolutamente sì, bisogna stare un pochettino più tranquilli, tanto è un'influenza. Secondo lei queste misure sono esagerate? Nel modo più assoluto, perché hanno contenuto quello che potrebbe essere una pandemia. Comunque l'hanno contenuta, perché è comunque un'influenza molto violenta, è comunque un'influenza che attacca tutti, solo i bambini non prende. Era veramente una cosa grave e andava bene così, però pare che muoiano solo gli anciani, allora nessuno si preoccupa. Secondo me sono un po' esagerate, sarà perché io sono tipo ottimista.